Pachino, droga corre sul web, carabinieri in allerta arrestano un giovane incensurato. Dilaga il fenomeno dello spaccio virtuale, il web in tempo di Covid e di limitata libertà di circolazione sta diventando soprattutto per i più giovani una valida alternativa alle tradizionali piazze di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei giovani acquirenti di stupefacenti online è passato in poche ore dalla rete internet a quell'attesa dai carabinieri di Pachino che hanno intercettato un pacco postale contenente stupefacenti a lui destinato e proveniente dalla Spagna. I militari hanno atteso che il destinatario, un 21enne di Pachino, ricevesse materialmente il pacco acquistato online per intervenire a sequestrare lo stupefacente IVI contenuto circa 150 grammi di marijuana. Dopo il sequestro dello stupefacente i carabinieri hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione del giovane dove è stata rinvenuta una serra artigianale che ospitava una decina di piante di cannabis indica oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, bilancine di precisione e una serie di appunti dove era riportata fedelmente la rendicontazione dell'attività di spaccio. A quel punto l'uomo è stato tratto in arresto. L'attività di contrasto allo spazio del stupefacente da parte dei militari della compagnia di noto aggiunge un tassello importante inserendo il web tra gli obiettivi da monitorare per contrastare con sempre maggiore efficacia questo redditizio fenomeno criminale. Un altro caso nel volgere di pochi giorni. Nello scorso 22 marzo i carabinieri della compagnia di Siracusa intercettavano Ashish per posta proveniente dalla Spagna e avevano arrestato in fragranza del reato di detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio Antonino Concetto Mericio, 22enne, siracusana d'origine, floridiano d'adozione, già gravato da precedenti di polizia specifici. Il Mericio, grazie a una tecnica ormai consolidata nel mondo dello spaccio e resa necessaria dall'attuale situazione pandemica che limita di gran lunga gli spostamenti, si era fatto spedire dalla Spagna tre panetti di Ashish da 100 grammi l'uno per un peso complessivo di 300 grammi ben celati all'interno di un pacco spedito col sistema postale. L'involucro però non è sfuggito ai vari controlli della filiera di consegne internazionali e i carabinieri sono riusciti a monitorarne la consegna a trarre in arresto il beneficiario. La sostanza stupefacente è stata sequestrata mentre il Mericio è stato tradotto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.